di Bagarella dopo di come me ne parlano anche quando lui era in caccia mi diceva molto rispettato ma di tutti gli uomini d'onore rispettato al massimo perché dice non guarda niente quando c'è da ammazzare qualcuno era un mafioso proprio un mafioso di cosa si parlava negli incontri di cui ci ha parlato prima? con Bagarella di cosa si parlava si parlava sempre di morti con Bagarella dovevi parlare solo di morti c'era la guerra quindi sempre bene o male sempre quelle erano le cose Leo Luca Biaggio Bagarella fratello di Calogero Bagarella e Ninetta Bagarella coniato di Totorina è una delle figure più emblematiche di Cosa Nostra ed in particolare della famiglia dei Corleonesi la sua figura criminale ha attraversato le più importanti vicende di Cosa Nostra e di conseguenza del nostro paese il pentito Antonino Calderone riferisce che già negli anni 70 Bagarella era considerato un esponente di primissimo piano all'interno di Cosa Nostra Lei ha conosciuto Bagarella? Io l'ho visto una sola volta che me l'ha presentato Toreina in un ristorante che si chiamava aveva qualche cosa a che fare con i cavalli la scuderia e al di sopra dello stadio verso mi pare per andare alla favorita di sopra non le so di essere precisi In che anno avvenne questa presentazione? Ma a partire, come dicevo, in questo periodo che io frequentavo il Palermo perché mio fratello era a Lucciardone perciò a partire dal luglio del 71 fino al 73 ma nel mezzo della 72 non le posso essere precisi Senta, la presentazione ebbe i caratteri cosiddetti della ritualità all'interno di Cosa Nostra? Come uomo d'onore Gli lo presentò come uomo d'onore? Il signore E poi non l'ha più visto? Cioè lo conobbe solo? No, 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 perché i corlionesi, non so com'è stato che me l'ha presentato i corlionesi non presentano i suoi uomini è difficile, devono avere molta fiducia per presentare i suoi uomini ad altri E la conferma del peso specifico di Bagarella la fornisce anche il generale Subranni, il quale condusse indagini investigative nella Palermo degli anni 70 e successivamente coordinò i Ross guidati dal capitano ultimo che arrestarono Totò Riina Tali indagini erano tesi a far luce sul clan dei corlionesi guidati già all'epoca da Salvatore Riina e da Leo Luca Bagarella che proprio in quegli anni stavano acquisendo una forza sempre maggiore Subranni Antonio Nato a? Nato a Termoli In questo periodo ecco, l'oggetto delle sue investigazioni è stata l'organizzazione Cosa Nostra in particolare? Sì, l'attività era tutta rivolta contro la criminalità organizzata Per tracciare quella che era la nuova mappa della mafia Per cogliere i momenti di frattura, di rottura all'interno Fratture che andarono a cadere proprio nell'anno 77 Con taluni omicidi di grande identità Lei nel 1978 ha redatto un rapporto, allora si chiamava ancora così, un rapporto di polizia giudiziaria datato 25 agosto 78 e che aveva come oggetto l'omicidio del colonnello russo Questo rapporto che condensava ovviamente un'attività di indagine lunga e complessa Lei aveva, se non ricordo male, disegnato già quello che poi è stato chiamato il cosiddetto strapotere dei corleonesi all'interno di Cosa Nostra All'interno di questo rapporto emergeva la figura di Bagarella Leo Luca che è imputato di questo procedimento penale e che giustifica questa domanda che so per rivolgerlo Quindi se lei può in un certo senso sintetizzare le risultanze contenute in quel rapporto con particolare riferimento alla figura di Bagarella E innanzitutto è da dire che quello era un rapporto di denuncia, non un rapporto di valore informativo di denuncia di tutto il gruppo che allora chiamavano e forse per la prima volta i corleonesi e tutta una serie di fatti gravi, di omicidi come ad esempio l'eliminazione materiale di coloro i quali indugiavano in quello che era il gruppo di mafia tradizionale Tra queste figure di vertice c'era certamente Bagarella fin da allora era considerato uno che esprimeva la volontà di Cosa Nostra Per esattezza non chiamavamo Cosa Nostra ma dicevamo la mafia dei corleonesi il diritto per mafia dei corleonesi quel gruppo feroce di mafiosi che avevano una ingerenza dell'eteria in tutte e quattro queste province occidentali quindi quella fu la ricostruzione della situazione della mafia nelle sue due grandi componenti quella mafia tradizionale e la mafia dei corleonesi che poi era la mafia emergente quella che distintiva da una diversa linea dell'altra mafia che quindi cominciò a colpire anche direi indiscriminatamente senza anche una causale talvolta pur di eliminare materialmente chi si opponeva a questo modo di emergere di questo gruppo nuovo c'era nel programma la eliminazione dei soggetti rappresentanti delle istituzioni quanto costituivano un pericolo e una minaccia alla espansione e a questo avanzamento continuo della mafia dei corleonesi la reputazione di Leo Luca Bagarella all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra è sempre stata ai massimi livelli come testimoniano le parole di Francesco Marino Mannoia uomo d'onore ed esperto raffinatore di eroina per conto delle famiglie mafiose Senta tornando un po' all'imputato cioè a Bagarella ci può dire all'interno di Cosa Nostra qual era il ruolo di Bagarella qual era anche la figura di Bagarella per come lei l'ha personalmente conosciuto Io l'ho conosciuto innanzitutto verso il 75-76 ci vedevamo alcune volte lui se la faceva alla voceria in un negozio di formaggi di un uomo d'onore della famiglia che apparteneva a Pippo Calò comunque nel mandamento apparteneva al mandamento Calò e Gaetano Calista e ci frequentavamo spesso lì lui era un uomo d'onore era un soldato non aveva carica Luca Bagarella ma era una persona molto valida e spietata come del resto quasi tutti i componenti della famiglia di Colleone e siamo stati molti anni in carcere assieme anche se saltuariamente lo conosco molto bene è una persona molto valida e molto eroente quando lei dice una persona molto valida in pratica cosa significa? cioè valida da che punto di vista? parlo sempre come uomo d'onore all'interno di Cosa Nostra ovviamente la validità in seno a Cosa Nostra sta a significare la bravura la personalità dell'uomo e la capacità di commettere delitti e non avere nessun problema ad agire comunque ad essere una persona molto in gamba soprattutto a commettere omicidi ecco il valido si intende in questo una validità certamente negativa ma comunque in seno a Cosa Nostra valido significa che ha scherzo del pericolo che è una persona molto in gamba a commettere omicidi Giuseppe Drago killer facente parte del gruppo di fuoco che negli anni 80 portò a compimento la guerra dei Corleonesi contro le famiglie palermitane conferma il peso di Bagarella nell'ambito di Cosa Nostra cioè come parente acquisito mentre io non ero combinato vedevo il massimo rispetto che avevano tutti nei suoi regali sto portando che avevo 15 anni 16 anni massimo rispetto di mio zio di Marchese Filippo che non mi viene anche un lontano parente sarebbe quello di Filippo Marchese il capo il mio zio è Vincenzo ma sarebbe il suocero di Bagarella cioè gli portavano rispetto anche ad altre persone massimo rispetto da tutti gli altri uomo d'onore poi io dalla famiglia di Brancaccio camminavo con i Graviano e lui chiese Cosa ne parlavano tutti bene un tipo di carattere duro se dicevano tutti bene in quanto uomo d'onore per parlare bene ne parlavano tutti uomo d'onore bene in quanto uomo duro la sua parola contava cioè se diceva una cosa bisognava starla a sentire insomma un uomo rispettatissimo al massimo e anche ad una certa importanza nel sonno nel rilevo di Cosa Nostra cioè negli alti vertici di Cosa Nostra Una delle azioni più eclatanti di cui si è reso partecipe Leoluca Bagarella fu senza dubbio l'omicidio del commissario di Polizia Boris Giuliano avvenuto a Palermo nel luglio del 1979 Giuliano aveva indagato a fondo sul traffico di stupefacenti tra Sicilia e Stati Uniti e aveva scoperto un covo utilizzato anche come raffineria in via Pecori Giraldi a Palermo nel quale erano stati trovati dei documenti falsi e delle fotografie recenti di Leoluca Bagarella insieme ad armi e denaro lo stesso Giuliano aveva fatto intercettare e sequestrare all'aeroporto di Palermo una valigia proveniente da New York contenente 500.000 dollari che era il prezzo che Cosa Nostra americana aveva pagato per una partita di eroina inviata dalla Sicilia tanto era bastato per scatenare la furia di Cosa Nostra e dei Corlionesi che tesero l'anguato a Giuliano all'interno del Bar Lux a Palermo c'era nel programma la eliminazione dei soggetti rappresentanti delle istituzioni quando costituivano un pericolo e una minaccia alla espansione a questo avanzamento continuo della mafia dei Corlionesi e quindi l'omicidio del Dottor Boris Giuliano è uno dei tasselli di questa strategia ma lo conoscevo benissimo era uno degli investigatori più capaci che Palermo abbia espresso e quindi era certamente costituire certamente un grosso pericolo per la mafia l'esecutore materiale dell'omicidio fu Bagarella e anche se fu condannato solo nel 1995 già all'epoca i sospetti erano caduti su di lui ma i testimoni oculari non fornirono grande aiuto agli investigatori era troppo forte il timore che un personaggio come Bagarella era in grado di suscitare ed in effetti anche nel 1993 quando si aprì il processo nei suoi confronti tale timore era ben presente come si può ascoltare da queste testimonianze lei era il gestore del bar Luxe nel luglio 1979 quando avvenne l'omicidio del dottore Giuliano vero? si si può raccontare brevemente che cosa vide quella mattina che cosa ricorda? io ero nella pasticceria guardare delle fotografie con il fotografo nel frattempo entra il dottore Giuliano e mi prende su un caffè l'ho visto da lontano e ci sei e le disse al fotografo ci sono molti e dice il dottore Giuliano un giro dalla pasticceria e vado alla casa mi salutava perché lo conoscevo anzi non mi vuole pagare il caffè ma non l'ho voluto pagare ma ha dato dei soldi nel frattempo gli ho dato lo scontrino stessamente una persona col forsellino come dire per prendere come almeno l'idea prendere sul caffè invece c'era la pistola e metta a sparare dopo il giro non è caduta a terra poi mi ha puntato la pistola a me poi si alpassò e sparò una serie di colpe di pistola al dottore Giuliano a terra poi si alzò mi ha puntato la pistola e ha scappato ma alle 8 e 2 minuti 5 corsi costo erario ecc il dottore Giuliano tutte le mattine venivano su no veniva solo quando c'ero le scuole ti accompagnavi su che io prendessi il novesse il bondire mai veniva da me difficilmente si si difficilmente ma per prendere un caffè da solo no no completamente lei quindi quando è entrato questo signore che poi ha sparato era alla cassa vero? si era alla cassa e che distanza ci poteva essere tra la cassa e il dottore Giuliano? il dottore Giuliano era così a questa lontananza vicino a me proprio vicino quindi sostanzialmente il dottore Giuliano aveva appena ritirato lo scontrino? si si aveva ancora lo scontrino ma la rimanese che erano insomma ricordo precisi quanto erano ma erano proprio spiccioli a lei ci può fare una descrizione anche sommaria di questo giovane che entrò di questo signore che entrò con la pistola? descrizione in che senso? la persona com'era? si com'era? com'era? uno stacciuto ma poi sai in quel momento era tutto lo sai quando uno entra a fare una cosa era tutto arrabbiato ma ho capito era uno stacciuto si si però ho detto già in quest'ora io si si ho risposto si si va beh e oltre che era stacciuto non ci può dire altro perchè a suo tempo lei fece una descrizione di questo signore comunque per esempio a suo tempo il Siriusa ha sentito che il giovane aveva circa 35 anni statura di poco inferiore a 1,170 credo che avesse la stessa statura del Dottor Giuliano corporatura robusta braccia molto robuste capelli con taglio corto abbondanti castano scuri viso rotondo molto pieno non aveva baffi e non portava occhiali indossava un pantalone di colore beige e magliette a maniche corte molto chiara molto chiara maglietta nella mano sinistra teneva un borsello di colore nero o marrone di modeste dimensioni non del tipo di quelli che si portano a fracolla quindi lei ha ricevuto delle mani ha ricevuto una lettera una lettera tra cui c'era scritto morirai tu e con traga allora la domanda è una per cominciare che cosa ricorda di quella mattina del luglio 79 quando venne ucciso il dottore Giuliano lei era lì se ci può raccontare brevemente ma con precisione quello che ha visto e sentito senz'altro siccome già sono passati 13 anni ho quasi 67 anni ma mi sforzo per aiutare la giustizia e praticamente consegnare a questi individui infame e delinguenti alla giustizia che sia condannato perché tutt'oggi per me è una cosa va bene lascia stare perché sono nervoso stia calmo perché noi dobbiamo fare giustizia il giorno che io sono andato dal signore Siracusa del bar essendo che precedentemente ha fatto un nozze d'argento delle fotografie essendo il sabato che 13 anni fa alla palazzina cinese dove svolgevo io l'arte di fotografo lì che venivano molti e molti matrimoni e si lavorava sono deciso di portare le fotografie il sabato perché già erano pronte entrando dentro il bar praticamente vide il signor Siracusa e ha avuto un'espressione ci disse signor Siracusa ci disse ma si è tolto i baffi nelle fotografie ci si è un capolavoro ci sta male per non di meno dove ci mettiamo a sfogliare l'album delle fotografie delle nozze d'argento ci mettiamoci nel banco dove c'è la pasticceria va bene mentre è stretto è una strettoia mentre io apri l'album guardi che bella questa guardi che bella questa guardi che bella quest'altra mi scusi dici ho clienti allora siccome è stretto io educatamente sono uscito fino all'angolo dove c'è l'entrata ho fatto uscire a lui e me ne ritorno di nuovo nel punto dove c'è l'album ora davanti a me nella vetrina c'erano saccocine di patatine questi che si sfilavano non so patatine nei saccocini c'erano caramelle cose avevo tutta la visuale occupata mentre suonavo tutte queste frazioni di seconde sento fare ta 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 e allora dentro gli orecchi miei dentro non immaginavo essere colpi di pistola ma bensì mi rivolgo con gli occhi una cosa gravissima e scappiamo tutti appena scappiamo tutti di là sentendo questi colpi non andai io a intuire che erano colpi di pistola e ha pensato a un cortocircchio nella macchina espressa e mi sono girato sentendo invece gridare gridare hanno ucciso il capo della mobile Boris Giuliano ci siamo resi io mi sono reso conto che è una della gravità e ci fu un scappa scappa da lì uscendo appena uscendo uscendo appena per girare vedo sfrecciare un signore alto un metro e sessanta un metro e sessanta cinque un affare del genere non arrivava a un metro e settanta crozzo perché l'ho visto di dietro un collo con la pistola così in aria la pistola in aria e faceva uè 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 si signora tenendola in aria non so la sua caratteristica di questo la impugnava nella mano destra destra si la impugnava nella mano destra poi girando dalla strada girando dalla strada c'era una macchina colore gialla che attendeva uno insomma messo la mezzo occultato non so come era combinato perché di lontano logicamente con tutto questo con una freddura con una calmezza proprio a tipo che veniva da un ricevemento di una festa si mette nella macchina e se ne va ritorno indietro io con un altro signore presto io dico chiamate la polizia senza perdere tempo la macchina gialla ma un giallo saglia vissoso peggio dei tassisti una cosa del genere insomma siamo stati a in faccia in faccia in faccia in faccia che sarebbe successo si signore con la vista provvidenzialmente diciamo coperta dai pacchetti di patatine si no ma erano altre perché erano uno spillone con tutti i sacconcini perché entra l'assassino comincia a sparare nei confronti del dottore giuliano e a lei l'unico pensiero che ci viene in testa è quello della macchina del caffè si perché il rumore e giusto giusto si gira dalla parte della macchina del caffè quindi anche se che avesse voluto vederlo in faccia non lo potevo vedere anche se io lo volevo vedere in faccia non lo potevo vedere perché guardavo la macchina del caffè perché no ma esattemi signore sono esattemi che io subito però ho sentito fare ho guardato nella mamma mia perché lei è abituata a macchina del caffè che hanno cioè io non capisco com'è che come è che confonde i colpi di calibro 765 con la macchina del caffè lei ha visto entrare il dottor Giuliano? si signora quindi lei ha visto entrare anche la persona che poi sparò al dottor Giuliano non mi ricordo questo completamente c'erano molte persone nel bar in quel momento si lei è in grado di darci un'indicazione circa il numero delle persone? no signora e lei chi stava servendo cosa faceva nel momento in cui io stavo lavando le tazze signora e nel momento in cui entrò la persona che poi uccise il dottor Giuliano lei cosa stava facendo? stavo lavando ancora le tazze signora e lei ha guardato in faccia la persona che poi sparò sul dottor Giuliano no signore in relazione alla posizione del bancone lei dove era messo? alla valle nel lavandino signore nel mezzo che posizione assume rispetto al tavolo al banco destra centrale nel mezzo nel mezzo nel mezzo quindi lei ha tutto la ottica di fronte e la prospettiva di fronte tutta presente lei era presente nel luogo dove si è perpetrato il crimine nel 1979 ci può raccontare quello che ha visto? stavo facendo i vetri dove c'era la casa ho finito di fare quel vetro è entrato il dottore Giuliano sei ripulito il vetro sì sono ritornato al banco e poi a quel momento ho sentito un colpo di pistola mi sono buttato nella petana e non ho visto più niente all'ultimo ho visto tutta la gente uscire e ho visto un signore che aveva una possetta e una pistola in mano e poi? poi non ho visto più niente e questo signore ce lo pote scrivere per quello che l'ha visto lei? aveva la borsetta in mano e la pistola? sì più o meno come era alto che boccava per la paredese ah non questo non io non lo posso dire perché non ho immagina di vederlo no dico ci può dire se era come complessione fisica se era molto alto se era di media statura era alto con le spalle un po' più grandi di me le spalle? un po' larghe come me sì come altezza dico più o meno poteva essere non lo so che era un giocatore di pallacanestro o un nano cioè più o meno non dico l'altezza ma come lo definirebbe media statura ma non so mi posso dire un medio a 70 un medio a 80 non è che mi posso immaginare le persone quanto sono alte tutti i testimoni dichiararono di aver visto benissimo il dottor Boris Giuliano ma nessuno aveva visto il killer va detto che all'epoca delle testimonianze rese al processo Bagarella era latitante e gli stessi testimoni erano stati più volte minacciati dai mafiosi comunque diversi pentiti tra i quali Francesco Marino Mannoia e Giuseppe Marchese suo cognato in quanto fratello della moglie di Bagarella Vincenzina Marchese nonché diretto responsabile degli omicidi di Stefano Bontate e Salvatore Inserillo divenuto collaboratore di giustizia nel 1993 confermarlo quanto gli inquirenti già sospettavano da più di 10 anni ecco io posso riferire quello che ho appreso direttamente da Bontate e dai componenti da alcuni componenti della mia famiglia il Boris Giuliano c'è da precisare che era un validissimo poliziotto ed era una persona veramente in gamba nel perseguire una pista o un indizio o qualcosa ed era una persona diciamo molto valida e molto temuta dalle organizzazioni appunto per la sua esperienza e per la sua qualità di diciamo di poliziotto il motivo nasce dapprima dal ritrovamento di quattro chile se non ricordo male di eroina trovata in via Pecori Girardi che era di pertenenza a quella casa di Nino Marchese che è cognato di Luca Bagarella ecco dopo questo rimanimento di questa eroina che fu attribuita al Marchese e anche al Bagarella fu sequestrata sempre da parte del dottor Boris Giuliano furono sequestrati 500 mila dollari all'aeroporto di Punta Reis va precisato che quei dollari erano di pertenenza si appartenevano a Bontate quindi il mio rappresentante e a Salvatore Inserillo erano provento di eroina raffinata da me spedita negli USA e quindi parte del pagamento che rientrava in Italia e anche quella partita quella partita di denaro sequestrato il dottor Boris Giuliano tendeva ad attribuirlo anche a questo gruppo diciamo dei collonesi a Luca Bagarella e ad altri nel contempo il dottor Giuliano faceva anche delle grosse indagini su alcun esponente di Altofonte era una persona che dava molto fastidio nell'ambiente di Cosa Nostra in special modo a questo gruppo di Bagarella e Altofonte e Collonesi la loro lamentela era quella che nonostante Bontate e Inserillo fossero i più grossi trafficanti di eroina in quel periodo il dottor Giuliano volesse attribuire a Bagarella e ad altri la responsabilità di quei soldi di quel grosso traffico di eroina che in quel periodo si faceva da lì scaturì la vendetta nei confronti del dottor Giuliano quindi se non ho capito male tra i chili di eroina di via Pecori Giraldi e comunque l'attività di trafficanti stupefacenti di Bagarella e il ritrovamento della valigia di dollari non c'è alcun rapporto giusto? no ho capito perché sono appunto due fatti per pertinenza diciamo di due famiglie di due gruppi di mafia diversi ho capito senta invece passando un attimo alla per quanto riguarda gli esecutori materiali di questo delitto quali sono le conoscenze che lei ha preso all'interno di Cosa Nostra? materialmente a commettere l'omicidio era stato Luca Bagarella ma che in compagnia di Pino Greco Scarpuzzedda e di Pietro Marchese io ho preso inoltre poi che fu avvicinato il proprietario o comunque gestore del bar dove era stato ucciso il dottor Giuliano per evitare in futuro che possa dare delle descrizioni riguardanti l'esecutore materiale ci può riferire in quanto a sua conoscenza in ordine dell'omicidio del dottor Boris Giuliano soprattutto alle causali ecco cominciamo le causali da quello che risulta a noi la morte di Boris Giuliano rientra nella scoperta del Covid via Pecori Girardi nell'arresto di Marchese Antonino mio fratello con Antonino Gioe ecco se ci vuole raccontare cioè le circostanze dell'arresto di suo fratello e di Gioe e poi che cosa produsse l'arresto di suo fratello e di Gioe in termini di accertamenti di Polizia Giudiziana noi eravamo e avevamo in affitto una velletta questa edaccia parte di mare in questa velletta spesso veniva a pranzo e cena eravamo tutti riuniti da noi familiari un giorno di luglio è stato che aspettavamo che arrivasse mio fratello con mio cognato Bagarella e ritardavano, non si vedeva nessuno dopo ci hanno avvisato nel TAD che purtroppo diciamo hanno arrestato a mio fratello allora c'è stato che noi ci hanno fatto spostare di là perché con la paura che potevano uscire come sono uscite le fotografie di Marchese Antonino in seguito perché avuto che hanno trovato il covo di Piero Corregiate che da quel covo hanno riscontrato e hanno trovato anche foto di Bagarella foto che erano di recente di come era lui e avevano paura che quella zona che loro erano spesso là con noi venisse riconosciuto da qualcuno dei bagnanti diciamo e anche del proprietario dei vellini e allora ci hanno fatto spostare di là e siamo andati in un appartamento al centro di Palermo e dopo c'è stato che abbiamo saputo tramite anche mio zio che ci ha detto che avevano informato a loro praticamente dell'arresto di mio fratello insomma dopo hanno trovato quella impolletta della luce quella impolletta hanno risalito in questa via del covo di via Piero Girardi sono andati in là e hanno scoperto tutto il materiale che c'era dentro e mi sembra che mi hanno trovato anche fotografie di nuvoletta insomma altre indagini, altri percorsi che si stavano verificando e niente praticamente dopo mio fratello dove è stato portato al manicome perché ha messo a dare i numeri dicendo che voleva la nave insomma ha messo a fare il pazzo e niente dopo due anni lui è uscito però uscito in senso definitivamente però già prima di uscire definitivamente prendeva lui qualche permesso sempre con raccomandazione eccetera e c'è stato che io spesso sentivo parlare anche a mio zio e anche prima di restare a Bagarella che avevano sempre la mentere su questo Boris Giuliano che ci stava rompendo le scatole perché dovunque si va feccando a indagare eccetera eccetera e da questo ho preso io praticamente che era Boris Giuliano quello che su questo copo che hanno scoperto si è messo a dare di più a parte le indagini che lui faceva anche dopo mi sembra che avevano trovato delle valizie una valizia con dei dollari insomma in Cosa Nostra si parlava di questo Boris Giuliano praticamente ha conoscenze dirette in ordine all'eventuale partecipazione di Bagarella all'omicidio di Boris Giuliano? dirette da Bagarella no ma però dopo si parlava con mio fratello che dopo che era uscito un periodo di tempo che era... almeno come parlavamo di qualche omicidio di qualche cosa che si doveva fare o già era stata fatta mi disse che anche Boris Giuliano dice lui che in ufficiale era come un perumaccio solo questo ma del diretto non... quindi lei lo ha appreso da suo fratello praticamente ho capito il fratello di Giuseppe Marchese Antonino smenti il racconto del fratello Marchese Antonino 11.357 ci stiamo occupando del processo nei confronti di Bagarella Leo Luca imputato dell'omicidio del vicepresore Boris Giuliano noi abbiamo sentito in precedenza suo fratello e da questa audizione è nata l'esigenza per la Corte di sentire anche lei però siccome lei è imputato di un reato associativo di mare vero? ecco e quindi di un reato connesso a questo fatto qui la legge da facoltà di esprimere la volontà anche negativa di essere esaminato quindi prima cosa ci deve dire se vuole essere esaminato non vuole essere esaminato e allora abbiamo detto che lei è fratello di Marchese Giuseppe per esempio sa che Marchese Giuseppe è un collaboratore un tragediatore diciamo meglio un tragediatore un tragediatore ah tragediatore ah no lei lo definisce così va bene e allora parlando di questo omicidio lei avrebbe riferito al suo fratello che l'autore era stato Bagarella Leo Luca dicendo testualmente Lucchino uffici cadere come un piro marcio non abbiamo avuto mai di questo genere di discorsi con mio fratello mai di questo genere di discorsi con suo fratello non esiste niente ma lei conosce Bagarella Leo Luca? si è il mio cugnano è il suo cugnano e non ha mai riferito niente non esiste niente non esiste niente perché? è solamente un'anfamità che gli viene fatta a questo ragazzo da suo fratello dai suoi confronti e perché? e perché è un tragediatore per ottenere benefici non sa quello che deve fare e per ora quali benefici avrebbe ottenuto suo fratello? come quali benefici ha avuto? riconosce dai benefici che ha ottenuto suo fratello? si sanno e quali sarebbero? che per esempio gli hanno dato già la libertà e tante altre cose la libertà è libero suo fratello? e tante altre cose ma suo fratello è libero le risulta che sia libero suo fratello? le dico che gli hanno dato tanti benefici tanti benefici si e quindi lo scopo e ne ho la certezza e quindi suo fratello accuserebbe in qualche modo lei non dell'omicidio ma della conoscenza c'è che dice che io gli abbia detto sono tutte infamità ai confronti di un fratello le dico che sono tutte infamità leoluca bagarella fu arrestato più volte negli anni 70 e 80 ed anche imputato e condannato al maxiprocesso del 1986 ma sempre scarcerato nel 91 addirittura per via di un indulto uscito quindi di galera fece in tempo ad organizzare un matrimonio principesco a Villa Igea a Palermo arrivando a bordo di una Rolls Royce bianca a questo matrimonio parteciparono anche i fratelli Emanuele e Pasquale di Filippo cognati della moglie di Bagarella i quali una volta diventati collaboratori diventeranno anche tra i principali accusatori di Leoluca Bagarella altri collaboratori di giustizia come Gioacchino la Barbera ed in seguito anche Giovanni Brusca riferirono della responsabilità di Bagarella per gli omicidi di Ignazio Salvo e prima ancora di Salvo Lima ritenuti traditori dei Corlionesi per non essere stati in grado di aggiustare le sentenze del maxiprocesso Torniamo quindi allo specifico dell'omicidio Salvo i nomi c'ero io Brusca Leoluca Bagarella Nino Gioe dei Trapanesi c'era Andrea Manciarracina Andrea Cancitano Matteo Messina Denaro e altra gente che ho conosciuto a quell'occasione c'era Giovanni Bassone Voi eravate in quanto dove? Siamo partiti alla casa della mamma di San Giorgi Sì e abbiamo portato le nostre macchine quella c'è la mia che aveva allora un fuoristrada e la Clio di Giovanni Brusca nella zona... la sua molto vicino dove avveniva l'omicidio la sua quale? eh? la sua la Clio, la Clio di Giovanni Brusca sì circa 3-400 metri da dove avveniva l'omicidio la mia molto più distante la rotonda di Casteldaccia che l'ho lasciata al punto in cui dovevo lasciare quella rubata e prendevo poi la mia la macchina rubata in tutto questo frattempo dove era? nel garage della madre di San Giorgi dentro era lui che si occupava a entrare e uscire la macchina San Giorgi manovrò questa macchina? sì, più volte dopo aver sistemato la macchina che cosa fate? ritorniamo, ritorniamo sempre con Giovanni Scaduto e San Giorgi ritorniamo alla villa della madre da là ci avviamo con la macchina rubata cioè io mi avvio con la macchina rubata nel posto grassato deciso che è una stradina che si mette per entrare nella villa di Ignazio Salvo mentre il Brusca, Bagarella e Gioè che sono accompagnati da San Giorgi entrano dalla villa di San Giorgi che si può accedere in quella di Ignazio Salvo che ripeto sono proprio a toccare e si nascondono nel giardino aspettando che uscisse Ignazio Salvo per poterlo uccidere lei rimane quindi fuori ad aspettare in macchina? io rimango fuori dal cancello dalla stradina che si escede per la villa di Ignazio Salvo e che cosa succede a questo punto? lei aspetta quanto? aspetto un oro, non un quarto perché sapevamo che si aspettava che lui uscisse da casa per poter commettere l'omicidio al momento in cui sentivo i primi spari mi avvicinavo a macchia indietro e prendevo loro lei a un certo punto sente gli spari e che fa? faccio il retromaccia circa 300 metri fino al cancello di Ignazio Salvo sapevamo che c'era un cancelletto piccolo che accanto a quello grande che si apriva dall'interno da un interruttore che anche quello ci aveva detto San Giorgi che conosceva bene la villa dello zio loro uscivano e li prendevo con la macchina rubata ed è successo questo? è successo precisamente così dopo il primo sparo mi sono avviato la macchia indietro dopo ne hanno sperato un secondo, un terzo adesso non ricordo di preciso e poi siamo andati via hanno quindi aperto il cancello e sono usciti? non sono riusciti ad aprire il cancello ma hanno scavalcato quanto pare l'interruttore non ha funzionato hanno scavalcato lei ricorda in che ordine hanno scavalcato? di preciso no comunque il primo mi sa che è arrivato Bagarelle quindi sono saliti tutti sulla sua macchina? si sulla macchina rubata ecco tutti chi? Bagarella, Brusca e Gioe e San Giorgi? San Giorgi è scaduto aspettavano in strada l'arrivo nostro per prendersi le armi e nasconderli e allora voi ve ne andate con la macchina con la macchina rubata? noi fino a un certo punto con la macchina rubata cioè lascio prima loro lascio Bagarella e Brusca alla Clio che si avviano verso Palermo io faccio ancora circa un chilometro lascio la macchina rubata prendo il mio fuoristrada consegno le armi a San Giorgi e andiamo anche noi a Palermo e ha detto lascio Bagarella e Brusca Gioe quindi rimane con lei? Gioe rimane con me sì fino al cambio di macchina? fino al cambio di macchina sì Gioe le ha raccontato le fasi dell'omicidio? sì so che a sparare è stato prima le Luca Bagarella con una 44 magnum e dopo a terra ha sparato anche Gioe con un fucile a canne mozza nel gennaio del 1993 Totorina venne arrestato fu la risposta dello stato alle stragi di Capaci di via D'Amelio avvenute nel maggio e luglio del 1992 nelle quali trovarono la morte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti della scorta io devo dare una buona notizia Reina Salvatore è stato catturato dai carabinieri questa mattina a Palermo mi trovo in difficoltà in questo momento evidenziare l'intensità la complessità dell'operazione che è condotto i carabinieri del reparto operativo speciale e i carabinieri dell'arma territoriale alla localizzazione e all'arresto di Totò Riina e di un'altra persona a bordo di un'autovettura che è in corso di identificazione la personalità di Totò Riina è nota fa parte direi della letteratura della mafia a lui sono riconducibili tutta una serie di gravissimi e reiterati episodi di criminalità nell'isola nell'intera nazione e anche fuori del territorio dello Stato fenomeni che hanno aggredito nei gangli vitali della popolazione il cittadino comune qualsivoglia attività produttiva con attacchi ripetuti contro le istituzioni statali e questo in un piano anche chiamiamolo in termini militari strategico addirittura potrebbe avere dell'inaudito e dell'assurdo di mettere in discussione l'autorità istituzionali quasi a barattare a istituire una trattativa per la liquidazione di un'intera epoca di assassini di lutti di stragi in tutti i settori della vita civile nazionale allora beh innanzitutto cominciamo alle ore 8.30 circa nel centro della città di Palermo Piale Regina Piale Regina Piale della regione siciliana all'altezza del del motel dell'agip dell'arotone no percorreva una strada non usciva era una Citroen ZX non vi dico di più però non vi dico di più però era pulita dopo l'arresto di Totò Riina Bagarella diventa il capo assoluto di Cosa Nostra così come testimoniato da Pasquale di Filippo cognato della moglie di Bagarella Lei sa qual era alla fine del 94 il ruolo di Bagarella in Cosa Nostra? Io non è che l'ho saputo il ruolo di Bagarella in Cosa Nostra nel 94 già lo sapevo lei sta parlando di fine del 94 io lo sapevo dagli inizi del 94 che era lui che dopo l'arresto di Salvatore Riina comandava Cosa Nostra cioè che era il capo incontrastato esattamente oltre a saperlo lo notavo io personalmente perché mi è capitato più di una volta che io personalmente gli dicevo senti mi fai una gentilezza siccome ho avuto suo discorso in questa zona con questo in un'altra zona che non c'entra niente con la mia zona con un'altra zona e con un'altra zona ancora e questo con me ha sbagliato e lui era padrone di fare tutto quello che voleva in Sicilia allora io per esempio gli dicevo guarda quello ho avuto un discorso io ho rabbia con questa ma la fai una cortesia gliela fai saltare alla Villenaria dopo 15 giorni a quello gli saltava la Villenaria poi questo mi costa personalmente perché quasi tutta la Sicilia per incontrarsi con lui dovevano aspettare anche un appuntamento ecco cioè non era facile poter parlare con lui anche da parte di altri esponenti mafiosi che avevano una certa entità sì ma io vorrei sapere questo però è vero che è venuto un collaboratore e ha detto che noi del nord non siamo in grado di capire le cose cosa nostra ma che non si diventi capo di cosa nostra a seguito di concorso per il titolo e per esami fin qui ci arriviamo l'abbiamo capito lei ci può dire i fatti le date le tappe attraverso le quali Bagarella dopo l'arresto del cognato ha scalato cosa nostra e ne è diventato il capo cioè voglio sapere lei per esempio ha mai partecipato ad incontri tra Bagarella e Brusca Bagarella e Graviano sa che ci siano state riunioni fra capi mafia per cui si è deciso di dare il potere o Bagarella si è in posto per prendere il potere sugli altri allora se Bagarella si incontrava con Brusca io non lo so io lo vedevo incontrare con Matteo Messina se si incontrava con i Graviano non lo so perché non l'ho visto mai però facciamo una premessa che i Graviano a fine 1993 sono stati arrestati che lui era il capo di Cosa Nostra dopo l'arresto di Totorrina questo lo so io lo confermo perché mi costa a me personalmente sulla base di che cosa le costa? sulla base di tutto perché io vivevo in una famiglia che era in contatto stretto con lui e io avevo i contatti stretti con lui e in base a quello che io ho visto e poco fa ho portato un particolare in base a quello che lui mi diceva in base a quello che io facevo lui era il capo assoluto di tutto dove voleva lui si facevano le cose se lui voleva che un omicidio si faceva nella zona di Resultana o nella zona di Tancaccio o nella zona di Palermo Centro per ordine suo noi potevamo fare tutto poi era lui che se la vedeva con il capo mandamento dell'altra zona e gli diceva solamente abbiamo fatto questo omicidio per conoscenza ma quel capo mandamento non gliene fregava proprio niente perché era lui che aveva dato l'autorizzazione il 24 giugno del 1995 Leoluca Bagarella fu arrestato a Palermo finiva così la sua latitanza per essere qui oggi a così poca distanza dal mio insediamento al criminale ad attestare attraverso questo importantissimo risultato questa brillante operazione l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine nella lotta ad ogni forma di criminalità organizzata questo duro colpo inferto alla mafia cade in un momento particolarmente importante in cui da qualche parte viene lamentato un calo di tensione e richiesto maggiore impegno questa operazione ha visto lavorare insieme la dia di Palermo e di Roma e magistrati numerosi della Procura di Palermo tutte le forze dell'ordine quotidianamente lavorano con speciale intensità e ad esse non possiamo come Procura di Palermo che essere intensissimamente autenticamente sinceramente riconoscenti oggi di dia soprattutto siamo portati a parlare perché della dia è questa operazione insieme a noi e della dia vorrei ricordare i passaggi principali nel corso di questo triennio via Ughetti questa intercettazione ambientale che ha consentito di acquisire elementi di straordinaria importanza per quanto riguarda la conoscenza della quotidianità della mafia primi elementi i primi estremamente importanti per l'attentatuni per la strage di Capace l'arresto di Gioè e di La Barbera che ha poi innescato un meccanismo di reazioni a catena sul piano investigativo estremamente importante ancora della dia fu l'intuizione che portò a chiedere e ottenere un colloquio investigativo con Di Matteo e Mario Santo il primo a confessarsi autore della strage materiale di Capaci confessione resa a un magistrato della Procura di Palermo e poi sviluppata come tutti sappiamo con altissima professionalità dai colleghi di Caltanissette della dia è l'odierna operazione che ha portato all'arresto di Bagarella quando di più sarà possibile dire perché non ci saranno più esigenze di riservatezza quanto sto dicendo risulterà con assoluta certezza non frutto di prospettazione esagerata o di prospettazione enfatizzante ma puramente semplicemente fotografia di una realtà investigativa di straordinario livello denotante straordinarie eccezionali capacità con una integrazione fusione davvero notevolissima davvero grande per la Procura di Palermo non posso non ricordare Ignazio De Francisci Giuseppe Pignatone Francesco Rovoi Luigi Patronaggio Alfonso Sabella e insieme a loro il collega Piero Grasso applicato alla nostra procura dalla Procura Nazionale Antimafia anche su questo piano una vera e propria fusione di competenze di professionalità e di sforzi quando tutto questo si realizza i risultati non possono non venire un paio di mesi fa abbiamo cominciato questa attività che come ricordava il Procuratore Caselli è stata condotta quotidianamente direi anche in tempo di notte assieme alla Procura di Palermo sulla base di una ipotesi molto precisa che riguardava la presenza di Leoluca Bagarella in una certa zona di Palermo abbiamo disposto una serie di servizi a reticolo sul territorio reticolo che si è sempre più ristretto e ieri pomeriggio il nostro lavoro è stato coronato da successo effettivamente ieri quando era stato arrestato era solo guidava una macchina con una patente intestata una persona inesistente non era armato è stato preso dopo un brevissimo eh inseguimento senza eh particolari problemi dopo essere stato arrestato e condotto in isolamento Bagarella era atteso già da diversi processi che pendevano a suo carico primo fra tutti quello per l'omicidio di Ignazio Salvo e da seguire i processi per le stragi di Capaci di Via D'Amelio di Firenze e numerosi altri egli ha sempre negato qualsiasi attribuzione di responsabilità proprio come suo cognato Totò Riina Bagarella era lunga fu Salvatore e fu Montello Lucia nata a Corleone c'è due 42 anni signor Bagarella lei ha mai subito condanne in passato? sì per quali reati? per l'associazione altre cose e altre cose quali? per gioco anche per omicidio? per omicidio sì nel settembre 1992 lei era latitante? sì da quanto tempo? dal 30 gennaio 92 dove ha trascorso questo periodo di latitanza se ritiene di dirlo naturalmente quanto meno è rimasto in Sicilia nella provincia di Palermo ma in questo periodo proprio non ero nella provincia di Palermo non era nella provincia questo periodo intende tutto il 92 una parte del 92 il settembre 92? diciamo una parte del 92 e che attività svolgeva? dove era allora? vede io svolgevo un'attività di commerciante di formaggi di formaggi? sì e dove? in Alta Italia? no qua in Sicilia in Sicilia ma non nella provincia di Palermo? qualche volta sì qualche volta anche a Palermo durante questa latitanza lei ha mantenuto contatti con i suoi familiari? contatti? non avevo contatti con i telefonici neanche telefonici? no ha mai avuto lei diciamo dal 92 in poi cioè da quando ha iniziato la sua latitanza il possesso di telefoni cellulari? no quindi tanto meno di telefoni cellulari clonati? no no non ce ne avevo non ne ha avuto si è mai fatto chiamare Franco? no io mi chiamo Luca Biagi questo lo so che lei si chiama se c'era l'abitudine fra le persone che lei frequentava di chiamarla Franco vabbè le persone che frequentava possono dire quello che vogliono? no io sto chiedendo a lei se era no 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 e ha avuto documenti intestati con un nome di Franco? ma che mi ricordo no presumo che durante la sua latitanza abbia usato documenti falsi anche può anche darsi ma non al nome di Franco ma può anche darsi anche al nome di Franco? può darsi che li avesse al nome di Guida Francesco? no questo nome non non mi dice niente non le dice niente sa lei che in via Ughetti dove presumo sappia è stato arrestato a suo tempo a Gioia Antonino e anche la barbera Gioacchino è stata trovata una carta d'identità in bianco rilasciata dal comune di Partinico a nome Guida Francesco e all'interno di questo modulo vi era una sua foto? non lo so signor Presidente io questa circostanza non la conosce? ho letto qualche cosa negli atti ma l'ha letto negli atti non so come mai questa cosa si trovasse e non può dare una spiegazione di questa circostanza? non lo so io come mai era in via Ughetti questa sua fotografia? non lo so come mai si trovava la signora era una fotografia recente guarda non l'aveva data lei a qualcuno? può darsi che l'abbia data a qualcuno per farmi qualche documento però può darsi che l'abbia data a Gioè? no Gioè io l'ho conosciuto a Gioè in carcere e dopo di che non l'ho più vista Gioè come sia andata a finire la io non lo so la mia foto nel 92 eravate tutti e due liberi sia lei che Gioè quindi può darsi che gliel'avesse dato lei a Gioè? nel 92 quando? io all'inizio del 92 sono andato all'avvento perciò quindi questa libertà con Gioè io non l'ho mai avuta ho capito lei conosce Brusca Giovanni? no conosce Scaduto Giovanni? no conosce San Giorgi Gaetano? no conosce Di Matteo Mario Santo? no conosce la Barbera Gioacchino? no Gioè Antonino lo ha conosciuto solo in carcere? l'ho conosciuto Gioè e poi dopo la scarcerazione non l'ha più vista? non l'ho più vista conosceva Salvo Ignazio? no mai mai conosciuto e mai avevo rapporto con questo signore conosceva Salvo Antonino? no conosce Di Filippo Emanuele? ah l'ultimo corso Beniamino? non è un Beniamino è un imputato collaborante questo l'ho conosciuto l'ho visto un paio di volte prima fino al giorno che mi sono sposato poi non l'ho più visto fino al giorno che si è sposato? si poi non l'ha più visto negli ultimi quindi no lei si è sposato quando mi scusi? al 91 nel 91 da allora in poi non l'ha più visto? no non l'ho più visto e il fratello di Filippo Pasquale lo conosce? uguale sono stato invitato nel mio matrimonio perciò quindi non è che posso erano invitati al matrimonio e dopo non li ha visti più? no ma Angano Antonino lo conosce? no no Calvaruso Toni lo conosce? no quando lei è stato arrestato Calvaruso Antonio non era con lei? no io sono stato arrestato da solo da solo? in macchina in mia regione titoliana perciò questo Calvaruso che lo includono con me non vedo come non c'entra niente con Brusca Giovanni era imputato al Maxi Processo? non lo so penso che era imputato ma comunque lei era imputato al Maxi Processo? si e Brusca non l'ha visto neanche al Maxi Processo? Brusca Giovanni no si erano a Brusca ma lui no i salvo non erano imputati pure al Maxi Processo? mi sembra di sì e non li conoscevano? se poi le ho viste qua in pretorio ma non significa che li conosco questo la Barbera l'ha conosciuto o no? no mai si è incontrato con questo la Barbera io andavo mi scusi e come ho passato il processo con Gioe ed Arce di Altofonte non lo so se questo magari quando andavamo al processo questo sarà venuto la per salutare perché venivano parecchie persone di Altofonte a salutare ma io non ho mai avuto rapporto o conoscenza con questo si lei è stato arrestato ha detto il 24 giugno del 95 si dove abitava in quel periodo? dove abitava? non è che mi interessa a questo processo mi interessa questa... ero a Palermo abitava a Palermo? aveva la disponibilità di armi in quel periodo? no aveva dei documenti con sé al momento in cui è stato arrestato? si di che documenti si trattava lo ricorda? una patente a chi era intestata lo ricorda? mi ricordo si chiamava Amato mi sento Amato Giuseppe può essere? e può anche d'altro Amato Giuseppe forse rilasciata da quale comune? quello di Palermo o qualche altro? nella provincia di Palermo da un comune della provincia di Palermo senta a proposito dell'attività che lei diceva aver svolto riguardante i formaggi aveva una sede questa attività? aveva dichiarato una sede? un ufficio? un negozio? qualche cosa? io c'avevo altre persone che certamente non è che posso dire a lei cioè esercitava questa attività non è che posso dire a lei con chi esercitava questa attività per il tramite di altre persone di cui non intende fare il nome certo quindi non era a nome suo questa attività certo che non poteva essere a nome mio perché io ero lato tanto ma che però io esercitavo l'attività normale io andavo a comprare formaggio lo consegnavo lei aveva la disponibilità di altri documenti al momento del suo arresto? no non avevo altre patenti? altre carte di identità? no in tasca non avevo in altri luoghi nella sua disponibilità aveva? anche in altri posti se avevo qualche altra cosa aveva per esempio una patente intestata a certo Maone Salvatore non me lo ricordo ma può anche darsi un documento intestato a certo di Martino Francesco interessante perché io ero lato tanto invece quindi non è che quanto mi capitava di avere qualche documento io il ruolo di Bagarella nella cosiddetta stagione delle stragi è stato di primissimo piano come riferisce Pasquale di Filippo la ragione delle stragi di Firenze Roma Milano e della tentata strage allo Stadio Olimpico è raccontata ampiamente dai collaboratori di giustizia dirlo qual era lo scopo di queste stragi lo scopo di queste stragi era quello che sono stati portati buona parte di detenuti al carcere di Pianosa e la Sinara è stato messo il 41 bis quindi buona parte di tutti questi detenuti si lamentavano e questo mi costa a me personalmente perché sono andato per tre anni a fare colloqui a carcere di Pianosa si lamentavano del regime un pochettino rigido che c'era nel carcere di Pianosa e la Sinara e del 41 bis quindi il motivo di queste stragi è stato un ricatto verso lo Stato praticamente o togli Pianosa, la Sinara e il 41 bis o noi ti facciamo saltare i monumenti di conseguenza saltando i monumenti cosa succede? è un danno per lo Stato italiano nello stesso tempo se saltano i monumenti i turisti qua non vengono più quindi si bloccava anche il turismo è normale che se io sono turista e sento che cominciano a saltare chiese e monumenti eccetera eccetera quei momenti cerco di tenermi lontano dall'Italia e quindi in questo senso si bloccava anche il fenomeno del turismo ma questa è una cosa secondaria comunque la cosa principale era quella di ricattare lo Stato se non vengono più i turisti si blocca poi successivamente io questo l'ho commentato con Bagarella chi parla e io chi è? Bagarella Bagarella abbia pazienza mi scusi lei si è comportato con grande disciplina e rispetto fino a oggi non capisco perché proprio ma purtroppo non è che i nervi arrivano appunto io lo capisco i nervi ma bisogna anche mi scusi sono dieci per cortesia sono undici mesi che noi stiamo procedendo è la prima volta che sento la tua voce che mi complimento però la prego di continuare che fino ad ora perché se comincia a disturbare io la devo avvertire che sarei costretto a farla uscire dall'altra non è possibile intervenire in questa maniera la legge non lo contiene se lei ha da fare delle dichiarazioni chiede di fare delle dichiarazioni lei mi deve scusare ma purtroppo signor Presidente visto che visto che io sto dicendo delle bugie no 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 possiamo fare pure un confronto mi scusi lei non ha diritto di parlare lei parla quando deve rispondere Bagarella ha da fare delle dichiarazioni? ma se per lei non vuole fare il confronto con questo battaglio devo fare ma sul confronto sei un pezzo di merda che sei sei un pezzo di merda sei un pezzo di merda stai attento a come stai attento a come fasi sei un pezzo di merda perché ti faccio piangere pure in carcere non puoi insultare faccia che sei un pezzo di merda lui ha cominciato io non ho cominciato signor Presidente lei a lui lo ha stentito solo qua io lo so signor Presidente quindi continuavo sulla domanda e che cosa ebbe poi successivamente Bagarella a confidarle a lei direttamente? poi ne ho parlato con Bagarella però questo l'ho commentato con Bagarella dicendo che non si era risolto niente il suo discorso l'abbiamo avuto io personalmente con lui in via Pietro Scaione Leoluca Bagarella di famiglia mafiosa è stato uno degli esponenti più spietati e implacabili di Cosa Nostra anche il fratello Calogero era un esponente del clan dei Corleonesi e rimase ucciso nel corso della strage di Viale Lazio del 1969 anche se nel corso di un'audienza Leoluca Bagarella ebbe a negare questa circostanza Grato ha detto l'altro giorno che nel 1963 io feci arrestare mio cognato all'epoca non eravamo cognati Zina Salvatore e mio fratello tanto che vi invito ad andare alla caserma dei Carabinieri a cercare i verbali ebbè se non ricordo male Zina mio cognato ora è stato arrestato verso novembre del fine novembre del 63 sì io sono stato arrestato verso il 20 di giugno del 1964 mio fratello era l'attitante è rimasto sempre l'attitante e tuttora è l'attitante quindi io non ho fatto arrestare a nessuno Grato a posto di parlare di queste cose che a me l'altro giorno volevo prendere la parola l'altro giorno però ero troppo troppo arrabbiato e ho preferito parlare insomma con la gara dovrebbe raccontare quanto ha fatto fare assieme a Contorno l'arresto dei 162 a Palermo quanto che questi Contorno e lui che poi si è saputo al Marchesi processo venivano chiamate prima luce quindi che viene qua ora dopo 50 anni a venire a dire una falsità dopo 20 anni che fa il collaboratore viene in questo processo a venire a dire che io ho fatto arrestare beh dovrebbe pensare per i fatti suoi però se la Corte vuole può cercare questi documenti io cercherò qualche documento ma sarà difficile perché quel processo è stato celebrato a Bari nel 1969 è stata data la sentenza i suoi difensori potranno documentare noi prendiamo atto le sue dichiarazioni anche di quella scusi Bagarella anche per capire noi perché lei mi pare che ha lanciato un'affermazione quindi lei ci sta dicendo che suo fratello Calogero è vivo ed è latitante abbiamo capito bene? è latitante è stato sempre latitante non è stato mai arrestato Presidente mai arrestato della sua dichiarazione questo è un'invenzione di grado Bagarella è stato per almeno 25 anni protagonista dei crimini più efferati compiuti dai corlionesi sia nei confronti di uomini dello Stato che di altri esponenti di Cosa Nostra lo stesso Totò Riina più volte anche pubblicamente gli ha tributato affetto e riconoscenza Allora a questo punto noi avevamo in sospeso la richiesta di dichiarazioni spontanee da parte di Riina ci sente da Parma? Dunque signor Presidente è a distanza di tempo che non mi ricordo bene la cosa è la giornata sei quattordici o quindici di gennaio del 93 che abbiamo arrestato però lontanamente a farmi arrestare sia stato mio cognato è fuori del dubbio ma questo zambellotto di 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 radio ne poteva fare a meno il cane questa pietra così perché Allora però Riina scusi lei non deve fare commenti sulla testimonianza deve riferire fatti si se ritiene di di avere fatti di riferire noi l'ascoltiamo commenti su testimonio lasci stare vada avanti però però se potrebbe ripetare questa valutazione la lasci a chi la può fare mi dica cosa cosa vuole dire in relazione ai fatti in concreto mio cognato non mi ha fatto arrestare ne a me e ne ha fatto arrestare ad altri quindi mio cognato io ho un Alan Duomo ma questo non ha altro da dire non ha altro da dire va bene allora possiamo fermarci allora qui analizzare analizzare la figura di Bagarella è quindi fondamentale per leggere ed interpretare gli avvenimenti più oscuri che hanno scosso l'Italia di Bagarella